Buongiorno a tutti coloro che si interessano all'istoria dell'arte e anche a tutti quegli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che trattano questi temi, soprattutto i temi di arte contemporanea. In questo intervento sulla storia dell'arte alla fine dell'Ottocento mettiamo a fuoco alcune caratteristiche fondamentali di due artisti notissimi e famosissimi, non soltanto nell'ambito ristretto degli appassionati dell'arte, ma in generale, e cioè Cézanne e Seurat. Ho raccolto in questo file di appoggio semplicemente delle immagini notissime di questi artisti, lo scorro rapidamente giusto per vedere che cosa c'è. Allora qui abbiamo due opere di Cézanne, un autoritratto con Berretto, il famosissimo dipinto della casa dell'impiccato, la Maison du Pendou, poi abbiamo la serie di Cézanne notissima dei giocatori di carte. Questo è un primo esemplare, questo è un secondo esemplare, forse il tipo di esemplare più noto. Ancora una variazione su tema, un po' come facevano i musicisti in questo periodo, come Debussy, come Ravelle e come tanti altri. Ancora un'altra variazione, nello stesso tema dei giocatori di carte. Poi abbiamo invece due straordinarie, due splendide Nature morte di Cézanne. Cézanne è noto e famoso per delle straordinarie opere che hanno come soggetto appunto la natura morta. Del resto la natura morta è nella tradizione era, nella tradizione francese e c'erano già stati altri pittori in precedenza, in passato, molto importanti da questo punto di vista che avevano già caratterizzato la poetica degli oggetti in maniera straordinaria. Quindi Cézanne alla fine dell'Ottocento praticamente raccoglie quella tradizione e la innesta in una tradizione che poi fa da trampolino di lancio appunto alle avanguardie storiche. Altri due dipinti notissimi e anch'essi facenti parte di serie, perché la serie del Mont Saint-Victoire è notissima e ci sono tantissimi esemplari variati dal punto di vista del cromatismo e del punto di vista in riferimento a questo monte molto famoso dalle parti di Cézanne. e poi le grandi bagnanti. Le grandi bagnanti anche sul tema delle bagnanti Cézanne ha realizzato tutta una serie di esemplari molto variati allo stesso modo dal punto di vista cromatico, dal punto di vista dell'intarsio delle pennellate. Naturalmente il tema delle bagnanti non è un tema che è coinvolto soltanto Cézanne, ma è un tema che ha coinvolto praticamente quasi tutti gli artisti tra fine ottocento e inizio novecento e se ne trovano dappertutto. Questo appunto, proprio giusto in riferimento a quello che stavamo dicendo, è il primo dipinto di Sera in questa scheda, in questo pdf di riferimento. Praticamente il titolo è Un bagno ad Asnier e qui c'è il primo Sera, ma questo dipinto è un dipinto straordinario. Quest'altro rappresenta anch'esso in qualche maniera un soggetto collegato alla bella vita sulle sponde della Senna. Il titolo di questo dipinto è una domenica d'estate di pomeriggio sull'isola della Grand Jatte, praticamente una delle isole più grandi della Senna. È il contraltare del precedente perché il precedente rappresenta la parte diciamo al di qua del ponte ferroviario e delle fabbriche. La classe sociale che viene interessata è una classe sociale medio-bassa, più bassa magari. Invece da quest'altra parte c'è qua giù sempre il ponte ferroviario e quindi è la parte opposta a quella precedente e questa parte interessa appunto una classe sociale invece di maggior levatura e quindi borghesia, in parte anche nobiltà. Le modelle, naturalmente anche questo soggetto è molto diffuso, basti pensare soltanto poi come si arriva da questo tipo di situazioni che interessava artisti anche come Degas per esempio, con atteggiamenti simili del modello da lui rappresentate. Come si arriva, dicevo, da questo tipo di soggetti fino a 800 ai soggetti di Picasso, per esempio, tanto per dirne uno, tanto per dire il nome più famoso, ma potremmo aggiungere anche Matisse, potremmo aggiungere anche i Faux, gli espressionisti tedeschi e così via, le modelle come soggetto di base per dichiarare un certo modo di vedere il mondo, un certo modo di raccontarlo, di rappresentarlo con la propria scrittura pittorica, con la propria calligrafia pittorica. Il circo, altro tema diffusissimo, anche qui poi Picasso raccoglierà questa tradizione e qui finiamo con questa carrellata di immagini che adesso incominciamo un po' ad approfondire ripartendo appunto da questi due dipinti. Allora, ripartendo da queste due immagini, da questi due dipinti di Cézanne, voglio però prima ricordare ai miei studenti, soprattutto che seguono il corso in didattica a distanza o, quando sarà possibile, anche in presenza, che comunque questo discorso, questo video si collega a quanto già spiegato nella scheda specifica sul post-impressionismo che adesso vi mostro rapidamente, cioè questa, dove c'è una parte introduttiva, dove ci sono i concetti fondamentali che riguardano il passaggio dall'impressionismo al post-impressionismo, e cioè tutte le differenze più peculiari degli artisti post-impressionisti rispetto a impressionisti e quindi bisogna, diciamo, considerare anche questo nella fase di approfondimento e di studio, assolutamente, e in ogni caso c'è anche il libro di testo, anche se il libro di testo, insomma, è sempre, è sempre, mostrano sempre dei contenuti un po' generalisti e spesso trascurano aspetti molto particolari che invece caratterizzano i fenomeni artistici. Allora, per quanto riguarda Cézanne, poi anche qui c'è la sezione specifica con qualche dipinto e ci sono i concetti fondamentali che riguardano Cézanne, cose che adesso prenderemo in considerazione, subito dopo c'è Georges-Pierre Seurat e successivamente gli altri, quindi diciamo che ricordo di studiare questi autori guardando queste fonti, la fonte in video, la fonte libro e la fonte scheda specifica. Stavo dicendo a proposito di Cézanne che si tratta di un artista tangente all'esperienza impressionista che, come sappiamo, è durata circa dieci anni, poi i vari protagonisti dell'impressionismo si sono un po' sciolti rispetto all'iniziale formazione abbastanza unitaria, anche se dal punto di vista stilistico gli impressionisti erano un gruppo piuttosto variegato dove i veri impressionisti erano un gruppetto di 4-5 autori per il resto c'erano all'interno della cooperativa creata da Pizarro c'erano stili molto diversi, insomma tutti abbastanza moderni ma non abbastanza per arrivare a livello di un Monet, a livello di un Renoir al massimo della loro espressione, diciamo così. Cézanne è uno di questi artisti che aveva fatto parte del gruppo impressionista ma che poi appunto se ne è uscito perché intanto per quanto riguarda un po' la sua biografia specifica è un personaggio che comunque non ha mai avuto problemi economici, essendo di famiglia abbastanza ricca, era assolutamente autosufficiente, poteva permettersi di non lavorare e poteva permettersi anche di non ricavare guadagni diretti, immediati dalla sua pittura. Questo lo pone in una condizione molto particolare per cui appunto Cézanne poi ha potuto approfondire la sua ricerca artistica che è anche quasi una ricerca filosofica, una ricerca che va alle fonti della costruzione da parte dell'essere umano di una visione del mondo, alle fonti del modo di rappresentare la realtà da parte dell'essere umano. Quindi chiaramente il suo allontanarsi poi progressivo dagli impressionisti è dipeso un po' da varie cose, era anche un personaggio piuttosto solitario e schivo, non dedito certamente alla vita mondana, ad apprezzare i piaceri della vita mondana, i piaceri dell'attimo fuggente, i piaceri della sensualità di alcuni aspetti della vita borghese contemporanea e lo stesso tipo di soggetti che sceglie Cézanne in effetti mostra una tendenza assolutamente più riflessiva e soprattutto la ricerca di un'esperienza estetica che fosse allo stesso tempo principalmente un'esperienza concettuale e che quindi dovesse essere un'esperienza molto più duratura e cioè molto più basata sulla riflessione, sulla conoscenza anche concettuale delle strutture appunto che sono alla base della formazione nella memoria delle immagini praticamente. Questo discorso che riguarda la struttura delle opere, la struttura delle composizioni delle opere di Cézanne, la struttura del gesto pittorico che è certamente molto diverso dagli altri post-impressionisti che come vedete tra l'altro richiama, come si vede bene in questi dipinti, richiama molto da vicino la tecnica pittorica di un courbet ad esempio, un courbet che utilizzava un colore molto spesso, grumoso, steso anche con le spatole, quindi dando delle sensazioni piuttosto solide, facendo percepire molto bene la superficie piuttosto che l'inganno, il trompleie come si dice, facendo percepire chiaramente che la pittura contemporanea è un gioco di superfici, di forze che si agitano all'interno di superfici. Tra l'altro si può anche apprezzare immediatamente in questi due dipinti un'altra questione che era assolutamente antitetica all'impressionismo, cioè la limitazione delle gambe cromatiche ad esempio, che per quanto riguarda Cézanne sono sicuramente le gambe cromatiche dei marroni, dei verti e degli azzurri, principalmente, con variazioni anche di altro tipo. Naturalmente poi nelle nature morte invece il gioco, il discorso è un po' diverso. Nell'autoritratto noi possiamo apprezzare effettivamente l'immagine di un personaggio serioso, molto chiuso nei suoi pensieri, nelle sue riflessioni e i colori che connotano questo dipinto sono essi stessi colori in un certo senso neutri, cioè che non eccitano più di tanto dal punto di vista cromatico l'immaginazione dello spettatore, dell'osservatore. I toni caldi si riducono semplicemente sulla zona del volto e già qui si vedono le tipiche pennellate costruttive di Cézanne che, come lui stesso dirà, poi servono a ricreare la realtà sotto forma di solidi geometrici, cioè a dire che lo sfondo dell'esperienza che l'essere umano ha della realtà è più uno sfondo legato a idee, oppure se vogliamo è uno sfondo legato ad archetipi iconici, cioè a immagini tipo, a immagini archetipo che fanno da sfondo alla costruzione della memoria, la quale poi ci porta a percepire, concepire, apprezzare o interpretare o anche deformare la visione della realtà. Ecco, quindi struttura solida, struttura solida pennellata costruttiva, queste sono alcune delle caratteristiche fondamentali di Cézanne. Per quanto riguarda la casa dell'impiccato, ovviamente qui c'è anche un discorso legato alla scelta dei soggetti e già lo stesso soggetto, appunto casa dell'impiccato, già di per sé come scelta, la scelta lascia percepire, lascia capire, lascia intendere allo spettatore che è una sorta di... c'è qualcosa di nascosto nella visione delle cose e non ci si può accontentare semplicemente di una visione fugace come era stata appunto quella tipica degli impressionisti. Naturalmente sono posizioni diversificate nell'ambito dell'arte di fine Ottocento e sono posizioni che si intersecano poi con la scienza contemporanea, con la filosofia contemporanea che sta oltrepassando la grande epoca del positivismo, diciamo così. Sono riflessioni che riguardano anche la musica contemporanea, la società contemporanea che sta cominciando a vedere in maniera diffusa alla fine dell'Ottocento i difetti della fiducia senza limiti nel progresso, si cominciano a vedere i lati oscuri di tutto ciò che il positivismo e l'industrializzazione avevano portato. Quindi stavamo dicendo superamento di alcuni principi estetici di base dell'impressionismo, superamento per forza di cose, perché d'altra parte dopo l'86 gli stessi impressionisti che liquidano i legami con la vecchia estetica, vecchia tra virgolette naturalmente e ognuno va un po' per conto suo, qualcuno poi ritornerà anche sui suoi passi, come Renoir per esempio. Quindi Cézanne è uno di quegli artisti post impressionisti che mettono in evidenza proprio la caratteristica del dipinto come superficie e la caratteristica del dipinto come superficie nel quale si agitano delle forze che possono essere forze di tipo magnetico, come per esempio in Van Gogh, o forze di tipo intellettuale e concettuale, come appunto nel caso di Cézanne. In ogni caso nessuno di questi post impressionisti vorrà più ingannare l'occhio, ingannare lo spettatore con una finta prospettiva, con una impostazione come si diceva al tempo di Leon Battista Alberti, non vogliono più creare una finestra sul mondo. Questi dipinti, questo tipo di estetica punta molto invece ai valori tattili e anche naturalmente concettuali, diciamo così, faranno appunto da sfondo all'arte e contemporanea le avanguardie storiche. Naturalmente si tratta anche di dipinti, come possiamo dire, scioccanti. Questa è la serie appunto di giocatori di carte. Stavamo dicendo, sono dipinti anche scioccanti per il tempo e del resto, come ho scritto anche nella parte introduttiva al post impressionismo, la poetica e l'estetica dello shock, che tutto sommato segue quella che era stata al tempo del romanticismo, ma soprattutto del realismo, la poetica del brutto, l'estetica del brutto, si trasforma adesso in estetica anche dell'effetto scioccante sullo spettatore. Lo spettatore va, come dire, va un po' scosso per evitare una sorta di ipnosi sociale dovuta appunto all'industrializzazione dovuta soprattutto a una presunta raggiunta comodità di vita quotidiana che appunto tende però ad addormentare la coscienza. E quindi questo tipo di arte, quasi tutti gli artisti post impressionisti saranno naturalmente soggetti a forti critiche da parte di una critica, e spesso comunque era una critica non preparata, perché appunto sono visti come autori che realizzano non delle opere d'arte, ma delle croste praticamente, quelle che oggi si definirebbero croste. Come si vede in questo soggetto dei giocatori di carte, tra l'altro, la vita quotidiana che interessava a Cézanne è certamente molto diversa dalla vita quotidiana che interessava agli impressionisti. Intanto si tratta di una vita quotidiana eventualmente di provincia, molto di provincia, della sua provincia Aix-en-Provence, però osservate bene la scelta dei soggetti, la limitazione del campo visivo e la ricostruzione dello spazio che opera Cézanne. Intanto il fatto che si possa associare l'opera di Cézanne a qualcosa di costruttivo e concettuale o addirittura filosofico, lo si può dedurre anche per esempio dalla scelta di questo soggetto, un soggetto che lui ha ripetuto più spesso, come del resto tutti gli post-impressionisti ormai lavorano con questo sistema di replicare più volte alcuni soggetti e guardate che questo modo di fare è anch'esso figlio dell'industrializzazione, della produzione in serie. Ovviamente le serie degli artisti sono un po' diverse dalle serie dell'industria, però il concetto di base è sempre lo stesso, è la serie, diciamo così, e c'è anche in vista, quando si osservano queste cose, in vista all'orizzonte, c'è anche un discorso legato al mercato, ad operazioni di marketing, alla possibilità di vendita e così via. Dicevo, guardando però questo soggetto, il soggetto dei giocatori di carte, i giocatori di carte sono tra l'altro in tre, in questo caso l'altro fa da spettatore, quattro pipe appoggiate sulla parete come se fossero un ricordo di quel modo di dipingere le nature morte di una volta che si chiamava appunto Trompleie, cioè che ingannava l'occhio, però volevo dire, numeri, cose isolate che ricordano numeri in relazione tra di loro, tre, quattro, una figura isolata, le gambe del tavolino, questo già è molto rimarcato, è molto rimarcato forse però in modo inconsapevole, in modo inconscio, ma poi i giocatori di carte stanno giocando secondo delle regole, rispettano delle regole predefinite, anche qui, come dire, e dai volti peraltro si vede come ognuno è chiuso in se stesso, in un certo senso gioca con gli altri, ma gioca moltissimo anche con se stesso, con la propria capacità intuitiva, con la propria capacità cognitiva in senso generale, diciamo così. Ecco, come si può apprezzare comunque da questa versione dei giocatori di carte di Cezanne, non dimentica totalmente alcuni dei principi che erano stati utili e di successo per l'impressionismo, cioè per esempio in questo caso realizzare varie gambe cromatiche dell'azzurro e anche degli altri toni che riguardano l'abbigliamento di questi personaggi o lo sfondo, il panneggio e così via. Quindi qui c'è ancora una certa vivacità cromatica che però poi nelle successive edizioni, come possiamo vedere, lascia il posto a delle soluzioni molto più drastiche, molto più spigolose, dove i piani di costruzione dello spazio vengono praticamente tutti frammentati. Già qui si può dire che inizia l'idea di quello che diventerà poi il cubismo, cioè la frammentazione della realtà, la scomposizione della realtà secondo vari punti di vista. Già qui Cezanne sperimenta la rappresentazione di oggetti che poi assumono un aspetto arcaico dalle stesse figure dei giocatori di carte, che qui per esempio vengono ridotti proprio per ridurre la deconcentrazione, la possibile deconcentrazione dello spettatore nei confronti di questa icona che si pone appunto come icona molto rigida ma nello stesso tempo anche facilmente memorizzabile, facilmente riscontrabile all'interno della propria psiche, come il rapporto dell'uomo con l'altro, seppure in un'azione che possiamo definire un rito giocoso, diciamo così. Però da notare molto la libertà, la libertà tecnica, la libertà esecutiva di Cezanne nel ricostruire i volumi di queste figure. Ricostruisce questi volumi non con l'intenzione di rendere realistico o iperrealistico ciò che vediamo, ma ricostruisce questi volumi come se fossero praticamente dei bassorilievi. Questi dipinti fanno pensare a dei bassorilievi di antica scendenza, fanno pensare per esempio ai bassorilievi arcaici dell'epoca greca, alle sculture e alle metope dei frontoni e dei fregi dell'arte greca. hanno un che di plastico, di solido e di anche pesante, diciamo così. Come si vede bene poi in queste serie successive, il nero incomincia ad essere utilizzato in maniera piuttosto diffusa e profusa. vengono in qualche maniera ancora ricordati qua e là alcuni pezzi forti che erano stati dell'impressionismo, come per esempio le superfici specchianti, qui c'è uno specchio anche se forse non si capisce benissimo, qua c'è una bottiglia, c'erano poi degli oggetti, qui si capisce meglio la bottiglia, ci sono probabilmente degli oggetti in ceramica disposti in alcune di queste versioni, però questo tipo di atteggiamento, questo tipo di appiglio che era stato tipico dell'impressionismo viene completamente distorto rispetto invece alla funzione che assumeva nell'impressionismo. Qui la bottiglia viene utilizzata non perché è una superficie specchiante, ma perché è un solido geometrico, questo è il discorso insomma, o altri oggetti che possono far pensare a dei recipienti in ceramica. Un'altra cosa che voglio far apprezzare nel modo corretto è che in molti di questi dipinti di Cézanne c'è un insolito pencolamento, un'insolita inclinazione verso sinistra di alcuni assi importanti delle opere, e cioè per esempio, vedete la bottiglia non è perfettamente perpendicolare rispetto alla base del quadro, lo stesso le gambe del tavolo, lo stesso certe linee verticali che vengono richiamate più spesso e che sono però leggermente inclinate. Questo accade, qui si vede benissimo tra l'altro, anche la seggiola, la presunta seggiola, perché qui non si capisce nemmeno se c'è benomente una seggiola, la presunta seggiola del personaggio a sinistra, del giocatore di carta a sinistra, è chiaramente decisamente inclinata, qui è inclinato molto bene anche questa balaustra di legno della Boiserie. Qui invece è tutto un po' più regolare, tra virgolette. Ecco, Naturemorte, Cézanne non si sottrae al dovere di confrontarsi con alcuni grandi pittori del passato di Naturemorte francesi, come ad esempio Chardin, però la sua interpretazione della natura morta segue gli stessi principi che abbiamo detto riguardo a tutti gli altri soggetti, anche perché il soggetto per gli impressionisti, il soggetto, il contenuto di un'opera non conta più come contava in passato, perché quello che conta per le opere d'arte post-impressioniste e per i post-impressionisti è la procedura, è il metodo utilizzato, è la scrittura pittorica, la calligrafia pittorica, il ductus, che fanno capire qual è la visione del mondo che loro propongono. In queste Naturemorte naturalmente si possono riscontrare cenni riguardanti l'uso del colore secondo i principi utilizzati dagli impressionisti o secondo i principi degli studiosi del colore più recenti, come Chevrolet ed altri, e quindi il discorso dei colori complementari, il discorso del chiaroscuro, il discorso del contrasto di colori caldo-freddi che è molto presente in Cézanne e che deriva in fondo anche da molta pittura del lontano passato, che poteva essere quella di un Piero della Francesca oppure quella di un Tiziano. Piero della Francesca, per esempio, ha molto a che fare con l'esperienza artistica che è pittorica di Cézanne, si può osservare quel senso di sospensione del tempo anche in queste Naturemorte, sospensione del tempo nelle visioni archetipiche di Piero della Francesca, come ad esempio il Battesimo di Cristo che è esposto al National Gallery di Londra, così come si possono osservare appunto in queste immagini, in queste Naturemorte, che sembrano immagini eternizzate per sempre, dove non ci si pongono, non ci si deve, non ci si può porre una qualche domanda di fronte a queste immagini, ma sono immagini statiche, ma nel senso positivo del termine, come erano statiche le sculture degli Egizi o come sono statiche le piramidi. Anche qui, naturalmente, quello che fa da sfondo la realtà nascosta, è una realtà geometrica, è una realtà di volumi ideali, ci sono delle idee di sfondo a queste cose e sono proprio queste idee che rendono questa sensazione, questa sensibilità che ci fa apprezzare queste icone come qualcosa che durerà per sempre. Diventano, sono quasi, sembrano più dei miti piuttosto che delle semplici Naturemorte. Naturalmente, se si osserva bene la disposizione di questi oggetti, la rappresentazione nello spazio, si può osservare che la prospettiva geometrica però è saltata già in Cézanne e lo sarà in quasi tutti i posti impressionisti, perché la prospettiva geometrica di origine brunelleschiana e albertiana era un qualcosa che portava poi all'inganno, alla finzione, al tromplei, e tutti questi artisti invece vogliono superare questa fase. Anche in queste Naturemorte ce ne sono tra l'altro moltissime, sono tutte straordinarie. C'è ovviamente in qualche punto il gioco impressionista dei riflessi tra una zona e l'altra, ma è un gioco che non ha più niente a che fare con la tranche de vie, con l'attimo fuggente. Qui è tutto il contrario, è l'opposto. Ci sono anche richiami a decorazioni provenienti da altre culture, come per esempio quella giapponese, Cézanne, come tutti gli artisti del post-impressionismo, è stato condizionato dall'arte giapponese, dalle tonalità anche che venivano fuori dai dipinti e dalle stampe giapponesi, ma non solo. Qui c'è anche molto di decorativismo di tipo islamico, che poi si ritroverà anche in Matisse. D'altra parte la Francia come potenza imperialista aveva molti contatti con alcune aree dell'Africa e del Nordafrica e quindi molti artisti, già a cominciare dallo stesso della Croix, avevano fatto anche dei brevi viaggi, soprattutto nell'area del Mediterraneo, e conoscevano molto bene la cultura decorativa aniconica di tipo arabo-islamico. E quindi anche questo tipo di cultura torna viva nelle opere, soprattutto per esempio in certi panneggi, in certe soluzioni decorative legate all'uso del tessuto, di tessuti, come si vede nelle nature morte di Cézanne, o anche in questo caso, come in questo caso appunto. Ricordiamo anche comunque che questo modo di disporre gli oggetti, frutta, nature morte di vario tipo, con dei tappeti, tessuti spessi, o anche qualcosa che assomiglia a lenzuola di tipo molto chiaro, tessuti quindi molto più luminosi. Questo modo era anche un modo che proveniva dalla pittura di nature morte di area olandese, perché come si sa in area olandese si era molto diffusa già nel Seicento la pittura, il soggetto della cosiddetta pittura di genere, cioè la natura morte, insomma. E tra questi pittori, famosissimo ovviamente, e potrebbe essere anch'esso un punto di confronto con alcune cose di Cézanne, era Jan Vermeer, il quale aveva realizzato appunto delle straordinarie nature morte, in qualche caso anche con la figura umana all'interno. Comunque dicevo che anche in questi dipinti di nature morte si può osservare il senso di basso rilievo, di quasi più che di pittura, quasi di scultura, basso rilievo, operato appunto questo effetto viene fuori proprio dal modo di disporre le macchie colorate in modo costruttivo. Sembra appunto, sembra che Cézanne più che dipingere abbia scolpito questi dipinti, queste immagini e questo modo di farlo possiamo definire appunto questa tecnica che si osserva benissimo qui la possiamo definire primitivista, insomma, perché affonda le origini in culture di tipo primitivo che potevano essere sia di area europea sia di area extraeuropea e quindi lo possiamo definire primitivismo anch'esso come quello di tanti altri artisti post-impressionisti. Qui si apprezza molto di più in questi dipinti dell'ultima fase della sua vita la frammentazione, quasi che le immagini fossero state viste attraverso un kaleidoscopio che frammenta tutto ciò che si sta guardando e qui si comincia a perdere il confine tra cielo e terra, acqua e terra, sì, c'è il riverbero delle tonalità all'interno di questo campo di forze, di campo di energie, c'è il riverbero di tutte le tonalità per cui anche il verde e l'ocra si riflettono nel cielo o nell'acqua e lo stesso nell'immagine delle grandi bagnanti come si vede lo stesso colore viene predisposto e disposto in varie zone del corpo, della terra, degli alberi, del cielo, lo stesso ocra lo ritroviamo più spesso appunto. Qui si vede benissimo questa tecnica a intarsio di tacche di colore che non sono più semplici pennellate, che non sono svirgolate rapide, che non sono nemmeno puntini del puntinismo ma sono come delle tacche proprio, dei pezzi di dipinto che devono essere incastrati, che devono essere in qualche maniera intarsiati, messi all'interno di una superficie per poi essere ricostruiti dalla mente dell'osservatore perché questo tipo di pittura naturalmente poi fa molto affidamento sulla capacità ricostruttiva, retinica e cognitiva dell'autore e quindi richiede anche una grande partecipazione cerebrale, mentale, più che empatica di tipo sensibile. Cézanne costruisce e vuole costruire delle immagini che diano una sensazione più duratura, delle idee che possano penetrare nella mente delle persone in maniera come dire, da in maniera da costruire proprio la memoria, in maniera da scolpire la memoria con immagini archetipiche, con immagini archetipiche. Ecco, queste un po' sono le cose che possiamo dire molto sinteticamente adesso in questo video di Cézanne, poi molte altre sono riassunte nella scheda. Nell'ultimo dipinto che viene mostrato, cioè Le grandi bagnanti, qui si vede veramente il discorso che si faceva poco fa della scultura arcaica greca o anche delle sculture dei frontoni dei tempi greci, tant'è che appunto anche gli alberi come vedete stanno quasi chiudendosi a piramide ricordando appunto la forma triangolare del tempio greco ma anche i singoli gruppi di figure come vedete che sono tutte tutte donne anche questi gruppi di figure vengono racchiusi dentro delle forme triangolari che non hanno più però il significato che potevano avere nel rinascimento di un artista come Raffaello o come Leonardo insomma qui si vedono già però delle figure deformate i volti non contano più nulla le proporzioni non contano più nulla qui non non c'è di mezzo un un dipinto che viene costruito sulla base di un'analogia con la realtà e invece sono invece dipinti che sembrano che devono anzi essere notati come equivalenti della realtà sono ricostruzioni non sono analoghe queste teme non sono analoghe alla realtà quindi non si vuole più ingannare l'occhio dell'osservatore anche qui come in tutti i dipinti di Sessani c'è un grosso lavoro di rapporto cromatico caldo-freddo quindi si vede benissimo qui le tonalità sono state ridotte quelle fredde quelle calde e stop poi ci sono naturalmente anche i neri che fanno da contorno i contorni tornano molto forti in Sessani mentre invece si erano persi nella pittura impressionista e altra cosa che voglio aggiungere che si nota in vari punti di questi ultimi due dipinti è che Sessani a un certo punto comincia anche a lasciare dei buchi vuoti della tela qui in questo gruppo di modelle che rappresentano delle bagnanti ci sono in realtà diverse zone del quadro dove la tela è rimasta non dipinta ci sono ampie parti non dipinte in questi punti e anche qua ce ne sono diversi insomma anche qui e questo è un modo assolutamente antitradizionale di trattare la pittura l'artista di questi periodi ritiene di avere la massima libertà anche da questo punto di vista non è una legge biblica che il dipinto debba essere trattato secondo una tecnica sopraffina sfumata precisa perfetta non viene trattato come un oggetto d'artigianato che deve raggiungere un come dire il massimo della utilizzazione della tecnica dell'artigiano qui non conta più l'artigiano qui conta l'intellettuale che realizza delle cose e non si preoccupa di questi fattori che ritiene secondari allora eccoci qua con George Pierre Seurat proviamo ad accorciare i tempi rispetto al commento su Cezanne per quanto riguarda Seurat diciamo subito che si tratta nel suo caso di un'evoluzione molto particolare o potremmo anche definirla involuzione di alcune delle regole che sottostavano all'estetica impressionista di alcuni aspetti dell'impressionismo quindi è un'evoluzione di tipo scientifico o appunto come dicevo un'involuzione di tipo scientifico un neo impressionismo scientifico un neo puntinismo un puntinismo un quantiglismo oppure come preferiva lo stesso autore e sarebbe forse il caso di chiamare la sua tecnica nel modo in cui lui stesso avrebbe voluto e cioè divisionismo perché effettivamente nella tecnica di Seurat viene messa in opera una vera e propria divisione meticolosa del cromatismo dei tocchi cromatici che poi vengono ricostruiti nella retina dello spettatore dell'osservatore è un tipo di approccio estremamente calcolato estremamente progettato da vari punti di vista e in effetti osservando le immagini di Seurat quello che l'impatto immediato che se ne ha è quello come per Cézanne di immagini sospese nel tempo come se il tempo non stesse scorrendo nel caso di questi artisti appunto immagini archetipo immagini che scolpiscono la memoria dell'osservatore e anche la memoria onirica dell'osservatore immagini che sono state studiate nei minimi dettagli da tutti i punti di vista quello che state vedendo in questo momento è un dipinto che ha come precedente decine e decine di studi in bianco e nero a grafite di tutti questi personaggi e dell'impostazione generale dell'opera questo dipinto è un po' diciamo uno dei massimi raggiungimenti della sua prima fase come pittore e quindi il puntinismo a tutti gli effetti e la divisione del colore a tutti gli effetti non è ancora visibile lo sarà nei dipinti successivi come nel caso appunto di questo dipinto qui si arriva al massimo raggiungimento tecnico del cosiddetto neo impressionismo o divisionismo appunto in questo caso dobbiamo rimarcare anche il fatto che Sorà sebbene appartenesse anche lui allo stranto di società che possiamo definire borghese in realtà si mescolava poco con la vita borghese cosiddetta amava molto stare nel proprio studio e ha realizzato tutte le sue opere ovviamente proprio perché la tecnica richiedeva la massima concentrazione non certo il lasciarsi andare all'impressione momentanea proprio perché la sua tecnica richiedeva doveva naturalmente lavorare nello studio e quindi non c'è nel caso di Sorà non c'è affatto la necessità del tromplei inteso come del tromplei inteso anche come un plein air non c'è bisogno del contatto diretto con la natura perché la realtà diversamente da come potevano immaginare impressionisti la costruiamo in ogni caso sempre noi con la nostra con la nostra concettualità con la nostra mente e anche con la nostra percezione ma la percezione è raccolta poi da schemi mentali e quindi anche lui come Cezanne scolpisce appunto la mente la memoria con degli schemi con delle procedure con dei metodi in qualche maniera quello di Sorà e di Cezanne è anche una sorta di neorinascimento sebbene su basi molto molto diverse dall'originale rinascimento italiano e lo è anche perché e lo è anche perché entrambi i pittori si riferiscono a esempi di pittura italiana proprio del rinascimento e cioè in particolare a Piero della Francesca che è evidentissimo in entrambi questi dipinti di Sorà un po' di meno in queste cose ma indubbiamente in questi dipinti Piero della Francesca il senso di distacco dalla realtà concreta tangibile sensibile e invece e invece lo spettacolo predisposto dalla mente qui si vede si vede benissimo questo discorso quindi anche per quanto riguarda per quanto riguarda Sorà si può parlare di primitivismo anche lui è stato condizionato indubbiamente alla grande luminosità e dalla dal tipo di forma di linearismo dell'arte giapponese non c'era condubbio anche in questo ma era stato molto condizionato appunto dalle immagini fisse nel tempo di Piero della Francesca e dalla luminosità dei dipinti di Piero della Francesca che viene che qui appunto si cerca in qualche modo di riprodurre in questo caso viene dipinta una scena di una classe sociale inferiore e quindi questa zona frequentata da questi bagnanti non era la zona della borghesia era più la zona in un ambito sociale di tipo proletario diffuso insomma variegato giù in fondo tra l'altro si vede bene il ponte il ponte ferroviario e come si può osservare una rappresentazione completamente diversa da quella che poi farà più volte anche lo stesso Van Gogh ispirandosi molto di più al giapponismo riguardo ai ponti insomma in fondo si vede anche si vedono anche le ciminiere delle fabbriche in azione cioè si vede la modernità che sta avanzando la modernità che sta avanzando c'è in questo dipinto anche una certa un grande studio per quanto riguarda la composizione e la disposizione delle figure nello spazio che sono pensate con una prossemica abbastanza ariosa armonica cioè ogni personaggio ha il suo spazio individuale piuttosto piuttosto marcato insomma a differenza invece a differenza vabbè queste erano le bagnanti di Cezanne qui le figure sono tutte appiccicate tra di loro invece dicevo a differenza di questa rappresentazione la domenica pomeriggio d'estate nell'isola della Grand Jatte in questo caso la borghesia fa da protagonista ma è anche un luogo molto più apparentemente molto più animato molto più denso molto più pieno per esempio in questo caso lo spazio peripersonale è un po' è un po' inferiore insomma cioè in qualche maniera c'è una una mobilità maggiore dunque stavano dicendo quindi per quanto riguarda la tecnica di Seurat è una tecnica scientifica in realtà molto di questa tecnica comunque che si osserva bene in questo dipinto cioè la tecnica puntinista che poi lui riverbera anche sullo spazio che dovrebbe essere della cornice questo lo farà in moltissime delle sue opere questa tecnica di impressionismo scientifico in realtà deve molto e deriva molto anche dalla conoscenza prima di tutto delle teorie sul colore e dalla conoscenza delle teorie sul colore applicate al mondo dei tessuti e degli arazzi perché Parigi poi fin dall'epoca gotica era una zona un'area famosa anche per la produzione di arazzi in effetti molte di queste opere sembrerebbero danno la sensazione proprio se viste da vicino di un tessuto più che di un dipinto mentre le opere di Cezanne sembravano scolpite come un basso rilievo in certi casi scolpite nel legno addirittura con molti spigoli nel caso di Sorà appunto si ha la sensazione di di un tessuto perché effettivamente gli studi sul colore tra l'altro riguardavano proprio appunto i colori per 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 le stoffe per i tessuti degli arazzi perché il tipo di tessitura dell'arazzo porta a quegli stessi effetti che si vedono in questo dipinto cioè all'effetto di ricostruzione retinica del colore a distanza da parte dello spettatore e quindi bisognava studiarli molto bene oltre al fatto che bisognava studiarli anche dal punto di vista della resistenza nel tempo ricordiamoci che l'esperienza cromatica dell'ottocento muta profondamente e muterà profondamente anche la percezione della gente comune perché i colori saranno molto più spesso prodotti industrialmente i colori per gli artisti i colori per i tessuti i colori per gli oggetti prodotti dall'industria saranno prodotti industrialmente saranno colori molto più stabili con un effetto più duraturo sulla percezione più stabile e per certi versi più rassicurante anche se anche se questo comporterà una grande scissione rispetto alla visione cromatica che l'essere umano aveva avuto per centinaia di migliaia di anni perché la percezione del colore che si può avere nel nel mondo naturale è completamente diversa dalla percezione del colore industriale sono due cose nettamente differenti ma su questo adesso non ci possiamo perdere in approfondimenti quindi anche anche per Sarà possiamo parlare di primitivismo possiamo parlare di arcaismo guardate bene queste figure se non sembrano dei pupazzi di legno ben torniti però pupazzi di legno sono tutte figure che non hanno che non hanno una vera anima sembrano sagome sembrano silhouette potrebbero essere delle belle silhouette per uno stilista che deve provare degli abiti per esempio ecco in questo in questo modo di rappresentare questa società borghese come sotto forma di automi ai quali si può dare la carica e che poi incominciano a muoversi secondo linee e direzioni predefinite in questo senso Sarà sembra magari voler fare anche una certa critica una certa critica sociale ma non è tanto la critica alla società borghese quanto una critica a un mondo che si sta lasciando andare a un mondo dei sensi senza controllo insomma quindi qui Sarà manifesta la sua cosciente e anche in parte un po' inconscia tendenza alla stabilità alla stabilità percettiva alla stabilità per quanto riguarda la visione la visione del mondo la visione del mondo che ci presenta Sarà è una visione del mondo come quella di Cézanne strutturata molto strutturata e tuttavia come dire le strutture che si stanno creando in questo momento storico devono essere nuove devono essere ricostruite non possono essere non può essere la struttura del mondo antico o la struttura del mondo cartesiano ad essere riproposta o rivissuta devono essere altre strutture è in questo periodo che si fanno gli studi sulla materia a livello atomico ed è in questo periodo che si creano anche le prime teorie sull'atomo e sulle particelle sulle particelle che ruotano attorno al nucleo e non è difficile fare un confronto appunto tra questo modo di Sorà di dividere la materia anche se si tratta di materia cromatica ma pur sempre materia di dividere la materia in puntini che si agitano all'interno di un campo di forze quale è questo è come se lui ci stesse dicendo che questa visione che noi stiamo guardando può sparire in un attimo può frammentarsi può come dire disperdersi come pulviscolo in un frammento di tempo ecco sono chiari i riferimenti come dicevo prima in quest'opera a Piero della Francesca si vede bene da questi alberi per esempio che ricordano moltissimo sia gli affreschi di Arezzo sia il battesimo di Cristo e anche altre opere la perfetta perpendicolarità per esempio di questi personaggi apparentemente estremamente equilibrati rispetto rispetto all'orizzonte terrestre cose che invece non si notava nell'opera di Cézanne interessante il particolare della scimmietta portata al guinzaglio e anche il particolare di questo bastone da uomo di questo ombrellino da donna di questi due personaggi che sembrano appunto una sorta di personaggi da carillon ai quali dare la carica o addirittura sembrano segnare un ritmo orario ben preciso con queste due linee di forza che abbiamo appena detto che sembrano le lancette di un di un orologio la scimmietta tenuta al guinzaglio è come dire tenere al guinzaglio il mondo il mondo antico ma anche l'istintività l'improvvisazione l'inaspettato tenere sotto controllo le cose questo è un dipinto che cerca di fare questo e tuttavia più ci si avvicina al dipinto più le figure in un certo senso svaniscono basta ingrandire qualche particolare per capire appunto qual è il senso un po' di questo tipo di rappresentazione c'è anche un gusto particolare un gusto particolare per la linea per la linea molto studiata abbiamo già detto è anche studiato molto dal punto di vista degli aloni che stanno intorno alle figure però questo si può apprezzare molto meglio su riproduzioni molto buone oppure ovviamente dal vivo dunque quindi la visione del mondo stavamo dicendo che ci propone Shara attraverso le sue opere che sono pochissime perché l'artista purtroppo è morto molto giovane è la visione di un mondo che non si abbandona all'espressione dei sensi al piacere dei sensi da vari punti di vista ma cerca di ricostruire una realtà sulla base di strutture più solide strutture che sintetizzano la percezione dell'istante con la memoria con gli schemi della memoria che bisogna continuamente raffinare e ricostruire in un certo senso per adeguarli al mondo corrente Shara è apprezzabilissimo anche per quanto riguarda e questo è un dato distintivo proprio di questo artista un dato peculiare è molto apprezzabile per quanto riguarda proprio il suo rigore metodico nel fare nel produrre queste visioni nel creare queste Weltanschauung queste visioni del mondo che equivalgono per certi versi anche ai testi di vari di filosofi che erano scritti in questo caso invece sono figurativi diciamo così fa già pensare comunque con queste immagini fa già pensare un po' a quello che sarà lo sviluppo del cinema che anche in questo caso sta cominciando a farsi notare proprio con le prime sperimentazioni tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento anche questo potrebbe sembrare come una lunga carrellata come una lunga sequenza di un film d'epoca possiamo dire ha molto anche della fotografia in effetti ha molto anche della fotografia della messa in posa fotografica che i fotografi nei propri studi realizzavano quando appunto dovevano fare dei ritratti di famiglia o anche dei ritratti singoli ecco ricordiamoci comunque il rigore metodico perché poi comunque questa tecnica puntinista o meglio secondo quello che volevo lo stesso sarà questa tecnica divisionista avrà il suo riverbero in molti moltissimi artisti anche se come dire verrà presa semplicemente come come linguaggio come tecnica come calligrafia piuttosto che nel suo significato originale cioè quello dato da Seurat appunto per cui ritroveremo questo modo di fare le cose di ricostruire il colore a puntini lo ritroveremo nei faux negli espressionisti negli astrettisti in tanti artisti delle avanguardie storiche ma ripeto avrà un significato completamente diverso a seconda dei casi anche per Seurat vale il concetto che l'opera è una superficie dove si agitano dove brulicano forze anche minuscole anche quasi invisibili come appunto in questo caso e teniamo presente che tutte le novità impressioniste riguardanti il colore sono comunque state rimuginate sono state ben digerite da Seurat e trasformate in qualcosa d'altro e trasformate in una calligrafia assolutamente unica ci sono stati degli imitatori di Seurat ci sono stati altri artisti puntinisti ma quando si parla di divisionismo del colore legato però ad immagini di questa portata che equivalgono alla scrittura di un intero romanzo possiamo dire ecco quando si parla di questo livello tecnico ed estetico possiamo dire che Seurat è stato assolutamente inimitabile di un intero